Ieri è già stata con noi, ha cantato e ha avuto un grande successo personale Oggi ci presenta un medley tratto dalla colonna sonata del film La febbre del sabato sera Con noi c'è Arianna La febbre del sabato sera 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 Il sabato sera La febbre del sabato sera La febbre del sabato sera Grazie a voi Grazie a tutti